Cos'è la sindrome da immobilizzazione che colpisce tantissimi anziani in Italia e nel mondo chiaramente e a volte purtroppo non solamente i soggetti anziani? È una sindrome in cui il soggetto perde completamente le sue capacità di movimento o questo si riduce in maniera estremamente importante. È una patologia indiretta in realtà perché non esiste una patologia che crea solo questo sintomo. Di solito l'anziano perché riguarda soprattutto i soggetti anziani o i soggetti con patologie neoplastiche o comunque con patologie gravi anche se molto giovani tendono ad allettarsi o comunque a fermarsi quindi per una serie di altre patologie e danno vita appunto a questa immobilizzazione che può insorgere in maniera improvvisa. Tante volte abbiamo visto dei soggetti anziani che fino al giorno prima stavano perfettamente bene e si muovevano poi il giorno dopo si mettono a letto e non si muovono più. Oppure il quadro può essere cronico cioè un po' alla volta il soggetto tende a manifestarsi. Il problema più grande è che questa è una sindrome cronico degenerativa cioè una volta che si manifesta è quasi impossibile che torni indietro. E cosa causa la grave ipomotilità? Causa soprattutto una gravissima ipotrofia cioè una riduzione delle strutture muscolari. Il soggetto diventa molto magro perde completamente le forze e questo poi va a ripercuotersi anche all'interno dell'organismo e non solamente all'esterno. Chiaramente i problemi più importanti chiaramente perché sono gli organi che maggiormente sono interessati alla nostra attività fisica abbiamo gravi danni a livello polmonare quindi scarse capacità respiratorie diminuisce la capacità dei polmoni di allargarsi quindi respiriamo di meno e peggio e inevitabilmente il cuore ne soffre in maniera importantissima. Anche se l'effetto più importante più grave che si può manifestare in un soggetto che non si muove che sia su una sedia che sia in un letto sono le infezioni dovute alle piaghe perché la cute rimanendo in contatto continuo e quindi non vascolarizzando in maniera corretta tende a rompersi e si manifestano queste infezioni che più delle volte sono mortali perché purtroppo se non portiamo il soggetto a muoversi se non cerchiamo in qualche modo di rispondere a questa ipomotilità l'evoluzione è inevitabilmente la morte perché il corpo va in contatto una serie di effetti collaterali importanti. Grazie